Maestro, io lo so, quando vengo a maggio, questo trovo. L'acqua, quindi la mettete come avevamo detto, con queste due graffe e tutto l'altra. Vediamo se se buca questa roccia, lo mettiamo tutto molto a casa. Mettiamo la percussione. Allora, non vi muovete. Mentre tu parli, io... Ho respirato. Trattenete il respiro. Pancia dentro. Pancia dentro. Pancia dentro, pancia dentro. Bucia, ti assentisci i pazzi qua. Che pazza. Riconosci, riconosci. Abbiamo scherzato, abbiamo riso esattamente come avrebbe voluto Luciano. Perché il sorriso di Luciano, del nostro big Luciano, è stampato nei nostri cuori. Noi ci ricordiamo e ci ricorderemo per sempre Luciano col suo volto sorridente. Però, in questo momento, io vorrei dare un significato particolare a questo momento con un minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento e voi fate scorrere nel vostro cuore, nella vostra anima, nella vostra mente tutti i momenti che avete vissuto con Luciano. Grazie. 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 e con le stesse scarpe camminare per diverse strade o con diverse scarpe su una strada sola. Tu non crederai se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai. Pioggia e sole abbaiano il mordo nuovo, ma lasciano, lasciano il tempo che trovano. E il vero amore può escondersi, confondersi, ma non può perdersi mai. Sempre per sempre e alla stessa parte mi troverai. Sempre per sempre e alla stessa parte mi troverai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.